dove andiamo? io voglio riuscire 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 dentro del villaggio è un problema qual'è il problema con cui riuscire? perchè... faccio sport sì, ma le persone che vivono qui ogni giorno attacchano le persone è una provocazione fare sport dentro del villaggio qual'è il problema? restare dentro del villaggio man, aprivate le occe non giocare con noi non è un problema non lo so 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 attenzione è una provocazione restare dentro del villaggio fare sport non lo so si possono fare sport dentro del valle non lo so si possono fare sport non lo so non lo so le persone stanno fredd qual'è il problema? è il problema questo è il ruolo questo è il ruolo non lo so possiamo dire non chiedere la polizia o soldi? questo è il ruolo questo è il ruolo dentro del villaggio per fare sport non pensi che sia una provocazione? non non lo so non lo so ci sono molto spazio ci devi essere qui non ci attacchi non ci attacchi ci stiamo parlando chi si attacchi chi si attacchi chi si attacchi chi si attacchi le persone si parla con te Non si può venire a casa per fare sport? No, non si può venire. Non si può venire. Cosa è la problema? Perché venite a casa? Puoi fare sport nel vostro casa. Non si può venire. Non si può venire. Non si può venire. Non si può venire. Guarda. 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 Chi의spon. La solle opere. T tire. Ci sono provocato. Enso è stata una successiva. Che di piedra. No, no. Veから. è qui. Siamo arrivati, Siamo arrivati, Siamo arrivati!